L'ingresso come va fatto, come l'ha condizionato? La sintesi adesso. Ha visto io questa? Tieni, giuro signor Renzi, non si è dimesso. Sarà tapparato. Si dimette sabato. Lei dice? E' quello per lui quando si dimette. No, no, questo è per lei. E come fa un signor Renzi? Non sa dire, mi dimetto? Ho sbagliato.